Grazie di cuore Brian, grazie! Grazie Linda Pani, grazie Eleonora, in redazione, sì, a Centronino e Kik in redazione. Noi torniamo sempre domani, come sempre, a che ora? Alle 9 in punto, fino a mezzogiorno. Domani mattina apriremo, sicuramente sapremo chi ha vinto l'Eurodicio, così piccola curiosità, se mi fa piacere, e vedremo chi vincerà, faremo l'inboccalupo ovviamente questa sera. Angelina, esatto. Adesso vado a mangiarmi non un mango, ma una pizza, credo. Dai Brian! È buono il mango? È buono, certo, è una battuta. Vi lasciamo con Paolino e Marci, grazie, ciao, ciao, ciao!